57 avanti cristo gallia nord orientale belgi nervi e altre popolazioni stanziate tra il reno e la senna si sono coalizzate contro i romani cesare interviene tempestivamente ma la lotta è accanita la coalizione delle tribù galliche si rivela più ostile e più determinata di quanto i romani potessero immaginare l'abbieno luogotenente di cesare è infatti piuttosto preoccupato tanto sest numerus ostium il numero dei nemici numerus ostium tanto sest è così grande ut nostri resistere non valeant ut nostri che i nostri non valeant non riescono a resistere le sorti della battaglia sembrano volgere al peggio omnia commenta l'abbieno sunt tumultus timoris fugge plena alla lettera tutte le cose omnia quindi tutto plena sunt sono piene è pieno tutto è pieno tumultus di scompiglio timoris di paura fugge di fuga adeo ut ali fugiant ali signa dimittant al punto che adeo ut alcuni fuggono ali fuggono ali signa dimittant altri abbandonano le insegne signa ciò nonostante cesare riesce ad avere la meglio sulla bellicosa coalizione di tribù barbari